Ha scagliato un carrello della spesa contro una vicina di casa, fratturandole addirittura il polso. Per l'aggressore adesso è scattata la denuncia per lesioni. Un violento episodio che è avvenuto alcuni giorni fa a Badialpino, nel comune di Civitella in Valdichiana. L'aggressore, un 32enne di origini marocchine, nel corso di una lite, ha infatti lanciato il carrello contro la donna, una signora di 64 anni, di origini polacche, residente nello stesso stabilimento e badante di un vicino. La donna è così caduta rovinosamente a terra e si è fratturata il polso. Immediato l'intervento dei carabinieri, di fronte ai quali la moglie dell'aggressore ha cercato di prendersi la responsabilità di quanto avvenuto, ma a seguito di ulteriori accertamenti i militari sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Alla base dell'aggressione, vecchie credini tra l'uomo e la 64enne, che adesso è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni.